Il professor Giuliano Noci che stanno microfonando, quindi è in arrivo, per parlare e trarre un po' le conclusioni da tutto quello che abbiamo ascoltato questa mattina. Sembra che gli argomenti siano tantissimi. Una situazione di incertezza generale e che si teme dai dati che possa continuare, anche opportunità date, offerte dalla tecnologia, ma anche ostacoli non soltanto tecnici, ma anche culturali. Una filiera dell'edilizia che è ancora in gran parte rimasta ancorata al passato, ma non tutta perché abbiamo visto che ci sono diverse aziende, diverse eccellenze, anche da questo punto di vista, cioè che hanno saputo utilizzare i nuovi strumenti per affrontare il periodo di lockdown, per superarlo e guardare al futuro, anche con un certo ottimismo, nonostante i problemi che, ahimè, non è il caso di ricordare ancora. Professore Giuliano Noci, lei ha ascoltato, ha detto delle cose non solo sagge, ma molto stimolanti questa mattina. Io credo, anzi, sono sicuro che tutti quelli che ci hanno seguito avranno tratto giovamento da queste considerazioni, e però lei ha anche ascoltato poco fa, come dire, anche un po', visto il polso delle aziende, sono aziende in questo settore, non soltanto dell'edilizia, ma in particolare della distribuzione, che, diciamo, i primi dieci vanno da circa, mi sembra, 25-28 milioni a 100, e poi tutto il resto è a scenda. Quindi si parla di aziende, quelle che sarebbero medie, diciamo, piccole in un contesto internazionale, medie in un contesto italiano, ma tutto il resto è micro. Bene, no, grazie, grazie anche per le straordinarie testimonianze che sono state esplicitate questa mattina con i premi, e oggi pomeriggio con gli interlocutori del mondo della distribuzione e del mondo della produzione. Io credo, fate partire il tempo, per favore, io credo che da questo punto di vista si possono fare alcune riflessioni che auspico possano essere di interesse di tutti. Il primo tema, il primo tema da cui noi non possiamo prescindere, è che lo esemplificava con chiarezza il caso Wurt. Sostanzialmente noi siamo stati abituati a ritenere che la proposizione di valore di un'azienda sia una proposizione sostanzialmente legata a che cosa offriamo, che cosa offriamo, quindi il prodotto e quant'altro. Nella realtà Wurt che cosa ha fatto? ha fatto un passaggio ulteriore con quella rappresentazione del magazzino 24 ore su 24, ha esplicitato che un elemento sempre più rilevante è il come. Il come vuol dire, ha esplicitato il tema della relazione che io questa mattina ho qualificato, quindi voi vi dovete rendere conto che la vostra capacità di fare la differenza, come vi dicevo, sarà il combinato disposto di quello che proponete e come lo proponete. Nel quello che proponete noi abbiamo, nella sostanza, abbiamo sempre più un tema che io dico, si dice in termine tecnico, di bundling, di bundle, di offerta. Che cosa voglio dire? Voglio dire che nella sostanza, così come le case automobilistiche non vendono più solo le automobili, ma vendono i servizi assicurativi, vendono tutta una serie di altri elementi, allo stesso modo voi non vi dovete vedere isolati a quella che è il portafoglio di prodotti con cui avete sempre operato. Tipicamente, se ci riferiamo, ma questo vale per il tema della casa, vale per il tema dell'ufficio, vale per il tema industriale con permutazioni direttore evidentemente diverse, è chiaro che voi dovete sempre più immedesimarvi in quello che è il bisogno che l'individuo ha nel momento in cui vuole rimodernare una casa, vuole costruire una casa, vuole farlo con l'ufficio e quant'altro. Questo è un passaggio cruciale perché vi porta a mettervi, lo diceva prima anche l'interlocutore che era seduto esattamente dove sono io, che stamattina parlava con il suo presidente e diceva noi siamo già qui. Mettervi a specchio sui bisogni dei vostri clienti e ragionando, signori, sempre quando voi volete leggere il processo d'acquisto dei vostri clienti, dovete far riferimento sostanzialmente a tre elementi. Il primo elemento è l'elemento del costo e tutti noi purtroppo guardiamo solo la dimensione del costo esplicito, cioè il prezzo. In realtà il cliente ha molti altri costi che sono tutti costi impliciti, cioè tutti i costi associati all'utilizzo, alla messa in opera e quant'altro. Ecco, ragionare tenendo conto dei costi espliciti ed impliciti è una prima dimensione che vi aiuta a andare oltre la dimensione del prezzo, che è, come dire direttore, siccome la variabile che connota ogni transazione è quella più semplice, io lo dico sempre anche alla grande distribuzione organizzata, sono capace anch'io a vendere se abbatto i prezzi, se io vendo l'85% in promozione sono capace anch'io a vendere, ma questo è sbagliato e sostanzialmente perché fanno questo? Perché non conoscono il percato. Il distributore qui, non mi ricordo che azienda era, il rappresentante... Insulation. Beh, siete davvero bravi perché le assicuro che i distributori della grande distribuzione organizzata, S lunga, COPE, non hanno mica capito questo, non hanno ancora capito che devono ragionare non solo sul costo esplicito, ma devono tener conto della dimensione implicita del costo, no? Quindi quello che vi dicevo prima. Quindi, primo elemento dobbiamo leggere questo. Secondo elemento, evidentemente è un elemento di benefici attesi, no? Quindi le chiara sì che prestazioni. E c'è un altro elemento che vi ho esplicitato questa mattina, l'elemento di incertezza, l'elemento di rischio. Ikea ha lavorato, tra le altre cose, Ikea quando sostanzialmente qualifica il tema dello sharing, quindi del pay per use della cucina, agisce sulla variabile rischio, percepito. Dal mio punto di vista, quindi andare a, quindi io come famiglia, come ragazzo, con la mia compagna, con la mia moe, è chiaro che affrontare un'operazione di acquisto di una cucina quando ogni due anni mi sposto ho un elemento di rischio e incertezza molto elevato. Quindi questi tre elementi sono elementi che voi dovete leggere quando guardate al vostro cliente e dovete cercare, in quella combinazione che dicevo prima, attraverso che cosa c'è l'oggetto o il bundle di offerta e il come, dovete cercare di andare a migliorare i benefici, ridurre i fattori di rischio percepiti e evidentemente ridurre i costi associati, ma non nel tema del prezzo, ma nel tema della dimensione di costo esplicito più implicito. Questo è fondamentale. Quindi quando un interlocutore, no, dico una stupidaggine, io, la dico adesso, ragiono quasi da consumatore, da individuo tipo, no? Io devo fare una casa. Quali sono i pain point prevalenti su una casa, no? Io devo cominciare a pensare che sulla casa io ho un tema di manutenzione. C'è qualcuno che sta ragionando su questa dimensione? O mi vendete le piastrelle e poi mi mandate a quel paese e dite non farti più vedere che non ti voglio più vedere che ti ho già fatturato. Quindi, ma per dire davvero una banalità, no? Il tetto è un pain. Il tetto, in qualsiasi casa è un pain. Ma c'è qualcuno che sta ragionando su questa dimensione di costo implicito e di fattore di incertezza? Giusto per darvi delle rappresentazioni di come, da una logica di semplice fornitore di prodotto, io in qualche modo ti posso offrire soluzioni. questo, cari amici, è il modo attraverso il quale io davvero sviluppo una dimensione di intimità. Così come tutto il tema energetico, no? Si parlava di isolanti, mi sembrava dire... Beh, avevo capito, mi dai l'isolante. Ma il mio bisogno qual è? Mi scusi se la prendo come esempio, ma il mio bisogno non è l'isolante. Il mio bisogno è il consumo energetico. Allora, al di là, cosa devi dire? Ah, ti do l'isolante e sono cazzi tuoi. Allora uno può dire... No, 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 mi è scappato. No, no, ci mancherei. No, no, chiedo scusa, mi è scappata. Magari io potrei pensare che, al di là dell'isolante, io potrei andare in una prospettiva di allargamento della mia proposta, sto dicendo davvero per paradosso, ma dobbiamo cercare di pensare un po' out of the box, no? Dobbiamo... In fondo le innovazioni vengono pensando da cose diverse. E allora io dico, dall'isolamento... Sai che c'è? Tu mi chiedi l'isolante. Quindi dell'Hellis mi chiede l'isolante. E io ti rispondo, ma certamente, ma sai una cosa, io mi faccio carico di tutto quello che è la sua efficienza energetica. Come? Manutenzione, mi posso inventare mobile app sui consumi, andare in integrazione con altri fattori che saranno i fattori della smart home. Perché poi, quando vi parlavo stamattina della digitalizzazione, state attenti. Quando io vi dicevo che il mondo digitale integra, tutti stanno entrando nella casa e negli uffici. Perché tutti stanno entrando nella casa e negli uffici? Perché tutti hanno capito che case e uffici sono momenti, un capitale, spazio temporale qualificato. Quindi, le utility stanno entrando nella casa, Amazon sta entrando nella casa, Apple sta entrando nella casa, Google con il termostato sta entrando nella casa. Cosa pensate che facciano questi? Perché entrano nella casa? Perché vogliono andare a prendere i bisogni e da lì intermediare tutto quello che sta dietro. Questo è quello che loro faranno. Come Google ha intermediato col motore di ricerca il mondo degli editori, che ha dormito. L'elice, avete dormito? Avete dormito? Ma peggio, sono andati dietro. Ne ho fatti tutti i colori. Attenzione, signori, non venite a dirmi fra dieci anni che vi hanno potuto. Perché il tema di fondo è che questi signori, così come hanno messo un cancello sul web, metteranno un cancello sulla casa. Grazie alla loro capacità, non di essere attori tecnologici, ma di fare customer centricity, di essere in intimità con il cliente. Attenzione a non attribuire a questi attori la valenza di attori tecnologici. Amazon è un caso, non di e-commerce, è un caso straordinario di applicazione rigorosissima del cliente al centro attraverso la tecnologia. Quindi nella casa dell'elice, nell'ufficio, nella fabbrica, si innestano tutta una serie di fenomeni. Per cui, attenzione a non guardare al vostro spettro del sistema dell'edilizia. Lei più volte parlava del sistema dell'edilizia. Attenzione, attenzione. Perché il sistema dell'edilizia è stretto. È stretto. Perché vi entrano lateralmente e vi intermediano. E quando siete intermediati è finita. Questo è un concetto molto rilevante. Perché su questo si giocherà la partita della vera messa. Allora sì che potremmo dire che abbiamo messo al centro il cliente. Quando avremo capito come nativamente andare a rispondere ai bisogni, lavorando benefici, costi, rischi e incertezza, allora a quel punto possiamo dire, e ci abbiamo riflettuto fino in fondo, perché poi non abbiamo tempo, ma tutti i ruoli del processo, ci sono tantissime cose che devono essere considerate. Questo è un elemento fondamentale. Vi prego per cortesia di fare delle domande in chat. A me piacerebbe molto vedere in chat commenti, domande. Vedo adesso Riccardo Glionna che dice ha parlato di multicanalità e poi c'è anche Eugenio Calpila. Multicanalità e poi ha parlato di omnicanalità. Qual è la differenza? Bene, c'è una differenza. Possiamo essere ancora più precisi. L'omnicanalità rappresenta un'evoluzione della multicanalità. In che senso? Nel senso che se multicanalità vuol dire metto insieme punti di contatto fisici e digitali, quindi dal magazine Utrade, dal website Utrade, agli eventi, al negozio e quant'altro. Questa è multicanalità. L'omnicanalità è un passaggio ulteriore. E' il passaggio attraverso il quale io non discrimino più tra spazio fisico e spazio digitale. Che poi nella mente dell'individuo non c'è più questa distinzione. Capite bene, lo dico al mondo delle imprese, che quando le imprese organizzativamente discriminano tra digitale e fisico, come i media hanno fatto, quella è già una causa enorme di asincronia, di controfase tra offerta e domanda. Quindi l'omnicanalità è questo. Eugenio dice, noi rivenditori non siamo molto tecnologici. Da dove possiamo cominciare per recuperare il gap? Poi me le muovete se ce ne sono altre. Da dove cominciamo? Qui la dottoressa che era qui, quella gentil donzella che era qui responsabile amministrativa, l'ha detto con chiarezza. Però l'Italia, cari miei signori, è, secondo l'Eurostat, ultima, ultima, che siamo dietro la Bulgaria, la Romania, e mi fermo qui, per competenze digitali in Europa. Questo deve dire qualcosa. Siamo quartultimi in Europa, per livello di istruzione. Avete capito? Quindi la risposta dove sta? Sta nel rendersi conto che la più grande sfida per produttori, distributtori, influenzatori, professionisti, è nella qualità del capitale umano. Le stesse persone che avete al banco sono persone che devono cambiare, vi ricordate il macellaio? Io quando vengo, quando vado nei punti vendita in Italia, diciamo, ma scusate, ma perché io devo andare in un punto vendita e trovarmi uno, mediamente scazzato? quando gli chiedo qualcosa, non lo sa, e io lo so tutto dal web. Ma allora, per quale motivo io devo andare a mangiare a quello lì? E questo capita, adesso esco da qua, vado in un punto vendita dell'elettronica, questo è quello che mi capita. e dopo si lamentano che non vendono. Hai cambiato il modello distributivo? Hai lavorato sulle tue competenze del personale? No, il formato è sempre quello, le persone sono sempre quelle e non hanno mai fatto piani di formazione. Quindi, caro Eugenio, da adesso in avanti, come avrebbe dovuto essere da sempre, bisogna investire in formazione, 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 formazione. Bisogna avere capacità di attrarre talenti, bisogna avere la capacità di organizzarsi, di codificare una strategia, di non andare a tentoni. Voi mi direte, ma fino adesso siamo sopravvissuti. Sì, ma nel futuro non sopravviverete più. Ecco, uno degli aspetti, mi permette di ritornare, come dire, alla domanda precedente. È giusto parlare di multicanalità, omnicanalità, però siamo in presenza anche di aziende, diciamo, con una dimensione veramente ridotta. Ecco, com'è possibile conciliare? Allora, è chiaro, questo è un tema, grazie dottore, per questa sua considerazione. È chiaro che noi abbiamo, si dice sempre, un sistema di imprese che è un sistema frammentato, piccolo e quant'altro. E noi, peraltro, la nostra storia è la storia dei campanili, delle città-stato, ci sono sempre stati divisi, no? e ce lo siamo portati nel DNA. Qui non c'è che una, una, come dire, possibilità. Allora, diciamo che faccio due, esplicito questa possibilità e aggiungo una seconda considerazione. La possibilità è molto chiara, è quella di fare rete, che è un concetto straabusato, ma totalmente non applicato. Quello che occorre fare è, se io non ho la forza per fare a determinate attività, ad esempio per fare analisi di mercato, approfondite e così via, ci mettiamo insieme e condividiamo quella che è questo tipo di attività. Che è un'attività pre-competitiva, perché poi ciascuno se la interpreta. Uno dei temi che in Italia mi fa arrabbiare è il tema per cui, qui in Italia, quando si fa rete, si fa la cooperativa d'acquisto, che non serve a nulla. Cooperativa d'acquisto vuol dire, allora, le imprese, queste imprese qui, non hanno nessuna difficoltà a fare la cooperativa d'acquisto, che lavora su un'efficienza dei costi quando abbiamo detto che i costi non sono la variabile su cui noi possiamo giocare la partita. Per carità, facciamolo, non è che le buttiamo via, ma quando invece dici loro guarda che questo va bene, fai efficienza, ma non te la giochi qui e devi lavorare tutto sul mercato, e mettetevi insieme per fare massa critica, questi non lo fanno, non lo fanno, purtroppo signori vi hanno raccontato che è piccolo e bello, piccolo e brutto, è molto brutto, quindi, e peraltro anche nel discorso dei bilanci di stamattina l'autore della pupa emergeva con grande chiarezza, come poi, ma è evidente, chi è più grande si può permettere non tanto volumi, ma attività di supporto che il piccolo non può proporsi, non può permettersi, quindi si può permettere il marketing, la strategia, tutti quei fattori, la gestione delle properties digitali, allora, si può fare però, occorre uscire dalla gabbia mentale per cui io sono disponibile a fare rete sugli acquisti e non faccio rete sulle vere attività che fanno la differenza, questo è un salto culturale, però c'è un'altra considerazione che è importante portare all'attenzione di tutti e che è l'attenzione che il paradigma digitale è un paradigma che permette di valorizzare il cosiddetto effetto rete, che cosa vuol dire l'effetto rete? Vuol dire avere la capacità di orchestrare risorse distribuite non possedute finalizzandole a un mercato, esempio Airbnb, Airbnb non possiede una camera da letto ma offre 5 milioni di camere da letto, non ne possiede una, non ha investito nulla, ha investito tutto in asset immateriali, quindi Airbnb che cosa fa? Orchestra risorse distribuite, le finalizza rispetto a una domanda di mercato, l'elemento che vi aggiungo rispetto alla considerazione è guardate che voi grazie alle tecnologie digitali avete la possibilità di ragionare anche in questa logica, cioè di orchestrare prodotti, servizi, risorse distribuite e finalizzarle rispetto al mercato che servite che è una prospettiva ancora una volta di allargamento dei confini del business perché vede io uno dei pericoli più grandi che vede e lo ripeto è proprio quello di fare in modo di rimanere ancorati al vecchio business e quindi di pensare che i perimetri del business siano sempre gli stessi in realtà il business dovete allargare la vostra prospettiva e dovete considerare pensiero largo largo dal punto di vista della vostra capacità di mettere insieme è come un puzzle un puzzle che io devo comporre leggendo molto bene quello che è il mio cliente quindi questo io credo sia un tema davvero straordinariamente importante qui è un fatto culturale però qui c'è poca formazione un'altra cosa che io reputo cruciale si chiama delega delega corrisponde ad organizzazione in queste realtà caro direttore capita molto frequentemente non so da quando Biden ha avuto la mosca tutti noi abbiamo mosca è vero? io continuo a fare interventi non so se è un tema di di imitazione è di imitazione di imitazione il Biden si mi ha augurato qualcosa il tema signori è che in molte realtà piccole un individuo fa tutto non è possibile nella specializzazione dei compiti nella complessità che deve essere gestita il processo di organizzazione e delega assume un valore fondamentale peraltro nel momento in cui vi lamentate perché non attraete talenti vi dovete rendere conto che la vostra incapacità di delega è il fattore che inibisce i talenti di arrivare perché per quale motivo io devo venire da uno che anche quando avrò 40 anni mi dice anche quando devo andare a bere siccome il mondo è grande e siccome la vera competizione lo sanno bene le grandi aziende che in parte erano sedute prima la si farà sui talenti sui talenti lì se non si sta attenti c'è molto da perdere vi do un esempio da noi ormai purtroppo sempre i soliti le grandi multinazionali vengono da noi al Politecnico i primi anni di ingegneria perché? perché vogliono assumere i nostri laureati molto prima che si laurino per evitare che vadano da altri poi quando mi vengono a chiedere un ingegnere io dico senti è arrivato tardi laureati i migliori li hanno già presi e purtroppo sono sempre gli stessi tornando ancora una volta al tema della delega se il padrone fa tutto come fa a star dietro ai rapporti con l'università? non ce la fa oppure se non si mette in rete come fa? però queste sono attività importanti ormai imprescindibili quindi dicevo multicanalità omnicanalità regia ci sono altri commenti? no vorrei farne uno io però si parlava di multicanalità prima e però come dire anche di problematiche relative all'aspetto dimensionale quando lo dico per esperienza perché mi è capitato di parlarne quando un imprenditore un piccolo imprenditore sente parole come cloud si spaventa ma come invece una piccola realtà come diceva lei prima se consorziata se può utilizzare utilmente ma innanzitutto questa parola questa parola che non è una parola strana cloud che adesso stigmatizziamo innanzitutto il cloud è una infrastruttura che democratizza le tecnologie per quale motivo? perché in realtà grazie al cloud io che cosa posso fare? posso evitare di acquistarmi ad esempio piattaforme on premise quindi pagando la licenza e invece lavorando in pay per use quindi non avendo i sorgenti da me i sorgenti nella nuvola e ad esempio li pago in logica pay per use il cloud in realtà è un'infrastruttura straordinaria per condivisione della conoscenza quella condivisione della conoscenza tra produttori e distributori che come dicevamo questa mattina è una delle più importanti priorità che deve essere considerata e in cui i distributori possono giocare davvero possono davvero fare la differenza come può fare un'impresa come fare è anzitutto deve essere in primo luogo consapevole e le assicuro bravo ecco qua adesso lo vedo bene e le assicuro che non sempre c'è questa consapevolezza ma lo sa bene che non sempre c'è una volta che ho acquisito consapevolezza devo trovare anche qui giusto partner perché di fatto ormai queste tecnologie rappresenteranno sempre più elementi fondamentali per la vostra competitività anche per voi che fate e operate nel sistema dell'edilizia perché se volete mettere il cliente al centro se volete passare dal che cosa al che cosa più come queste infrastrutture al pari e in taluni casi più del prodotto faranno la differenza quindi occorre che tipicamente non è il primo cantinaro che passa per strada perché anche qui uno dei drammati se noi siamo ultimi per competenze digitali il rischio è che pensiamo che questa roba qui il primo cantinaro che passa per strada no noi qui siamo in un bellissimo centro di produzione e vi assicuro che il numero di tecnologie è un numero di tecnologie significativo per farle funzionare bene e questo è possibile solo se si ha competenza quindi la consapevolezza che il ruolo giocato dalle tecnologie e dell'informazione e della comunicazione è cruciale porta inevitabilmente quindi così come faccio le partnership con l'Italcementi di turno con l'Avurto di turno con tutti quelli allo stesso modo devo vedere questi fornitori di uguale o addirittura in talunni casi superiore dignità ok perché è come se diventassero pezzi della mia fabbrica pezzi della mia esposizione pezzi della mia logistica hanno le stesse caratteristiche questo è un fattore elevato Laura Viola dice quanto dovremmo investire in percentuale al fatturato sempre che tale parametro sia corretto di formazione e non esiste un dato standard quello che dovete dipende da come siete messi adesso e quindi da qui vi devo dire che comunque vi do un dato che a me è impressionato un grosso player multinazionale ha chiesto al Politecnico di Milano di fare un corso di formazione e l'elemento di novità noi facciamo corsi di formazione per moltissime multinazionali però in questo caso ci ha chiesto di coinvolgere una business school spagnola quindi non sto parlando di Germania non sto parlando di Francia non sto parlando di Stati Uniti la Spagna per cultura per tante cose noi guardiamo gli spagnoli e gli spagnoli guardano a noi allora quella business school quando abbiamo interagito aveva un prezzo giornata della formazione che era tre volte il nostro a dire che cosa che la formazione in Spagna è ritenuta importante perché se quel prezzo lì lo applicano vuol dire che è un mercato e quando poi andiamo a vedere negli ultimi 15 anni pur in un quadro istituzionale incasinatissimo perché la Spagna lo sappiamo la Catalogna i Paesi Baschi una realtà costituzionale complicatissima però quando noi se negli ultimi 15 anni uno va frequentemente in Spagna vede che evolve 15 anni in Italia c'è sempre lì quindi per dire che informazione occorre investire informazione tecnica parlavate giustamente lo diceva il collega che era dall'altra parte la rete commerciale un'altra cosa un'altra cosa importante che io voglio portare alla vostra attenzione mannaccia mi occorre il PIN adesso lo passo le cose che mi si è bloccato un'altra cosa che è importante portare alla vostra attenzione è l'ho accennato stamattina le reti commerciali non potranno più lavorare come hanno lavorato fino ad oggi perché le reti commerciali di fatto noi ce le immaginiamo iconicamente come sostanzialmente l'uomo con la valigetta che sta sul mercato raccoglie gli ordini mardina le ordini indietro e a quel punto qui avviene il ciclo naturalmente non è per tutti così se ho un centro espositivo però anche nel centro espositivo io ho le persone i sale assistant e quant'altro e poi ordine questa logica qui non funziona più infatti nel mondo industriale le reti commerciali hanno cali di rendimento perché ricordatevi quello che vi ho detto del cambio del buyer industriale del processo d'acquisto quello che si sta rivelando è che il marketing deve integrarsi sempre più col commerciale e devono aiutarsi a vicenda marketing che deve lavorare nella comprensione dei processi d'acquisto deve lavorare sul website deve lavorare sul CRM e deve preparare il terreno per quando il commerciale arriva che non può arrivare come vi dicevo all'inizio per presentare un catalogo perché il buyer non lo riceve più il commerciale deve arrivare una volta che il buyer si è costruito uno spazio di alternative questa cosa questa integrazione peraltro non riguarda solo marketing e commerciale ma riguarda un'integrazione tra coloro che stanno sul mercato quindi commerciale con il marketing e con la parte tecnica perché sempre più c'è bisogno di competenze tecniche nel momento in cui voglio affrontare il bisogno ricordatevi non vendo un trapano ti aiuto a fare buchi per aiutare a fare buchi occorre non solo quello che conosce il trapano ma occorre quello che conosce anche le condizioni in cui il trapano si applica quindi occorre una differente integrazione tra la parte commerciale e le altre funzioni aziendali quindi il tema dell'integrazione è un tema su cui signori voi dovrete prestare grande attenzione che poi dovrete declinare secondo le vostre specificità e quant'altro però questo è un tema davvero importante Eugenio Calzi ha consigli su come possiamo approcciare in modo efficace la dimensione online commerce in un settore come la rivendita edile ma certo che ho consigli allora cominciamo col dire una cosa le persone non hanno comportamenti univoci lo stesso individuo a parità di bisogno potrebbe una volta fare una cosa e un'altra volta farne un'altra che cosa voglio dire che un vostro cliente in taluni casi a parità di bisogno potrebbe decidere una volta di farlo online perché ha fretta perché e un'altra volta di venire al punto fisico l'assenza dell'online è purtroppo un fattore che incide sulla fedeltà sulla capacità nostra di occupare positivamente una parte della mente delle cliente quindi l'online è un elemento è un punto di contatto l'e-commerce è un punto di contatto che non devo guardare solo per il valore del transato ma per la capacità di rispondere alla bisogna a un'esigenza del mio cliente che anche se poche volte transerà online grazie al fatto che c'è l'online e che quindi gli hai semplificato la vita ti riconoscerà scambierà valore ti riconoscerà fedeltà quindi il tema dell'online e-commerce è un tema che non va visto va visto nel quadro dell'omnicanalità che vi dicevo prima e l'e-commerce non va valutato come viene fatto sempre per il valore del transato ma così come dobbiamo valutare lo spazio fisico l'esposizione il negozio per la sua capacità di convertire l'acquisto indipendentemente dal fatto se l'acquisto lo faccio lì o da online la cosa vale la rovescia non devo commettere l'errore di valutare l'e-commerce per il valore del transato adesso io non posso entrare nel dettaglio anche perché abbiamo finito il tempo ma questo è un elemento cruciale che vi deve portare a guardare lo spazio di interazione con i vostri clienti in una logica davvero integrata non a silos e quindi di guardare l'e-commerce in quanto tale e vedere il fatturato che faccio lì no al limite dovete andare a vedere come si comportano laddove avete maggior fatturato e margini coloro che transitano per l'online e scoprirete che molto spesso sono quelli che vi fanno guadagnare di più e che hanno la maggior frequenza d'acquisto qui ci sarebbe il discorso della business intelligence esattamente c'è tempo c'è tempo bisogna formarsi bisogna formarsi l'ha detto bene il professore io direi che è stata una giornata densa con un intervento straordinario ringraziamo il professor Giuliano Noci innanzitutto non resta che ringraziare anche chi ha partecipato gli sponsor gli intervenuti e anche voi coloro che siete stati a casa o in ufficio a seguirci online streaming alla prossima grazie a Grazie per la visione!